Buongiorno, desidera? Buongiorno, vorrei un po' di formaggio e un etto di parmacotto. Mi dispiace, signora, il parmacotto non ce l'ho, però le posso dare... Almeno non importa. Mi diede le olive verdi e due etti di parmacotto. Mi scusi, forse non mi sono capito, ho tralasciato il parmacotto, non ce l'ho. Però le posso dare un altro che è buono lo stesso. A me se non ha quelle verdi, mi dia quelle nere. Quelle nere. Però magari me le fa tre etti di parmacotto. Ci abbiamo il parmacotto? No, eh no. Ah, ho capito. Ah, ho capito. Mi dia quattro etti di parmacotto e non ne parliamo più. Ma che mamma ha mandato questo a me? Boh, se le chiettava meglio. Sta zitto, che fai a chiettallarmi? Serve parmacotto? Oh, ma poi le vede prima, la signora ha fatto la testa. Pronti con il parmacotto? Dai, lui, valla a pià, che fai? Serve altro? No. Chi chiede parmacotto vuole solo parmacotto.